cari amiche e cari amici ben ritrovati e ben ritrovati nella mia umile nora oggi questo video un po' anche così quasi in incognito come potete vedere dagli occhiali scuri perché lo capirete se avete pazienza alla fine del video ve ne farò un accenno comunque questo video partiamo con l'analisi invece dell'albo in questione e cioè il secondo il numero 2 di Odessa vedete la nuova serie della Sergio Bonelli Editore di cui vi ho fatto credo una buona recensione per quanto riguardava il numero 1 avendo conosciuto personalmente gli autori disegnatore disegnatrice e in particolare in quella circostanza ho conosciuto personalmente anche il disegnatore dell'albo in questione e cioè Simone Ragazzoni Simone che già mi ero reso conto vedendo dall'opera Albonelli Ponti che era molto bravo un bravissimo disegnatore comunque è la controprova l'ho aspettata con l'uscita di questo numero 2 da lui disegnato per quanto riguarda quindi l'albo in questione di cui vi torno a mostrarvi la cover il titolo è eroe a metà la costina come sempre è la quarta di copertina con l'anticipazione la pubblicità del prossimo numero numero 3 della quale vedo anche una bellissima cover anche in questo caso perché le cover sono sempre molto belle per quanto riguarda questi copertinisti della Bonelli io diciamo che li apprezzo quasi totalmente perché ogni mese ci regalano delle bellissime cover in particolare l'autore della cover per quanto riguarda Odessa è Davide, scusate, Mariano De Biase mentre Davide Rigamonte è sceneggiatore e soggettista che ha scritto quindi sia il soggetto che la sceneggiatura per quanto riguarda invece la colorazione dell'albo la stessa è stata effettuata dallo stesso Simone Ragazzoni che è uno probabilmente l'unico dei disegnatori di Odessa che non solo realizza i disegni delle tavole ma li colora anche e signori io vi devo dire che è veramente un grandissimo artista perché ma non perché l'ho conosciuto perché la verità ve lo dimostrerò mostrandovi praticamente queste meravigliose e spettacolari tavole che è realizzato per questo numero 2 io rimango sempre diciamo meravigliato di fronte a questi lavori, a queste opere realizzate da questi grandissimi artisti del fumetto italiano come ho detto proprio ieri in un'altra circostanza in un altro video in Italia abbiamo dei grandissimi artisti non saprei più che cosa dire e ciò nonostante io resto sempre meravigliato ogni volta che ne conosco uno nuovo e vedo diciamo specialmente giovani e vedo come lavorano, quello che producono sono veramente bravissimi guardate quindi la nostra esterofilia dovrebbe essere un po' rivista considero che in Italia abbiamo tanti talenti in tutti i settori non solo nel campo dei fumetti detto questo veniamo a parlare dell'albo in questione eroe a metà, eroe a metà perché il protagonista di Odessa Yakib Yurakin affronta diciamo in quest'albo un nemico particolare se stesso diciamo per quanto riguarda tutto diciamo tutto lo sviluppo di questa vicenda di Odessa in questo numero 2 si aggiungono altri piccoli tasselli che contribuiscono a chiarire un po' diciamo la vicenda che si svilupperà nel corso della serie perché il primo numero lasciava un po' così uno non riusciva bene a capire di che cosa stavamo parlando anche se insomma si è capito di che cosa si trattava però diciamo era un attimo così io stesso avevo detto che non avrei potuto dare un'opinione se prima non avessi letto almeno 3, 4, 5 numeri ecco perché solo così riuscirò ad avere un quadro preciso dell'intero dell'intero soggetto di quello che riguarda l'albo in sé in questo numero alcuni tassetti sono stati messi al loro posto ho cominciato a capire qualcosa in più la storia mi è piaciuta ve lo dico subito a me è piaciuta in particolare in questo numero conosciamo principalmente il nostro diciamo protagonista principale che è questo Yakiv Yurakin il nome è un po' difficile da ricordare però questo è Yakiv Yurakin sapete che la storia è ambientata in una cittadina dell'Ucraina e quindi questi sono i nomi però è molto bello ecco comunque veniamo al dunque cominciando a mostrarvi le spettacolari tavole di cui vi ho parlato ecco cominciando dall'inizio ovviamente guardate un po' siamo di fronte a non solo a degli spettacolari disegni ma una colorazione fantastica, eccezionale guardate la bravura di Simone Simone Ragazzoni per riprodurre diciamo immagini il soggetto, la sceneggiatura di quest'albo perché francamente bisogna dire che non è facile trattandosi di un mondo come dire, surreale cioè non è facile riprodurlo ci vuole una grandissima immaginazione un grandissimo talento per fare questo cioè questo non credo che possa essere che possa essere negato guardate qui uno spettacolo per gli occhi come si fa a non ammirare questo lavoro è veramente bravissimo guardate io magari sto spoilerando troppo quest'albo ma cioè non riesco a non mostrarvi queste queste meravigliose tavole ecco qui potete vedere praticamente questa figura qui che in realtà è la metà che si è la metà dell'essere che si è fuso con con mi sfugge con gli akiv insomma poi non voglio in qualche maniera spoilerare troppo però se avete seguito già il primo numero sapete che cosa è successo praticamente questa astronave aliena che si è trovata per un per un errore di di programmazione si è trovata praticamente durante una specie di esperimento si è trovata sulla città si è ritrovata sulla città di Odessa in Ucraina dove è avvenuta una specie di fusione fra gli occupanti diciamo parte degli occupanti alieni dell'astronave con la popolazione della cittadina intorno alla quale si è creata una specie di bolla che non consente né l'accesso dell'uscita dalla cittadina e lì si è iniziata a sviluppare la vicenda che riguarda i nostri eroi ecco questo in poche parole è un concetto molto complesso da capire e da seguire ma vi garantisco che già in questo secondo albo ne cominciamo a capire qualcosa qualcosa di più ecco vi mostro ancora alcune tavole così a caso bellissime tavole di Simone io continuo a ripeterlo e vi consiglio praticamente di continuare a seguire questa 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 serie perché sono sono convinto che con il profigo sarà sempre più interessante e migliorerà secondo me ecco all'inizio ci ha lasciato un po' tutti un po' così un po' perplessi lo so io stesso ero un po' non riuscivo bene a capire dove si andava a parlare però dopo questo secondo numero ribadisco ho le idee un po' più chiare e vi invito a proseguire anche voi nella lettura e sono sicuro che non ve ne pentirete perché è veramente interessante e poi guardate qui io ma Simone è veramente bravissimo guardate qui qualcosa di spettacolare solo cioè non so solo guarda non dico niente non commento rendetevi voi conto di che cosa ha realizzato questo ragazzo non ho praticamente altro da aggiungere perché ovviamente non vi faccio vedere le tavole finali perché sennò spoilererei troppo diciamo l'album posso soltanto esprimere una mia opinione che allo stato del tutto positiva anche in previsione di uno sviluppo futuro dell'intera storia che secondo me chiarirà tanti punti e ci appassionerà tutti quanti convincendoci a continuare a seguire la serie in questione cioè questo odessa detto questo veniamo al piccolo segreto di cui vorrei mettervi a parte ma io voi sapete che vi dico che secondo me questa qui non è un'opera di fantasia hanno hanno preso dalla realtà perché io almeno per quanto mi riguarda io sono convinto che 15 mesi fa è avvenuta la fusione ma è la location dove era odessa era l'intero pianeta l'intero pianeta e l'astronave non era quella di odessa ma un'astronave diversa l'astronave smartphone mi pare che si che si che si chiamasse così in particolare cioè per quanto mi riguarda io vedo che attorno a me diciamo personaggi totalmente fusi con diciamo questa con gli occupanti di questa astronave smartphone che c'è stata una fusione almeno per quanto riguarda casa mia da 15 mesi perché da 15 mesi mia moglie mia moglie mia moglie cioè non è non è non è più lei ragazzi è sempre con le cuffie è sempre con lo smartphone si è fusa con lo smartphone con facebook con instagram whatsapp poi quando esco la mattina adesso specialmente che vado che per lavoro vado a milano in metropolitana sui pulmi sui autobus è un la fusione è avvenuta perché sono tutti fusi con questa gecio ragazzi e ragazzi guardate veramente io sono certo che questa fusione c'è stata a casa mia poi da 15 mesi vivo con una persona che non è mia moglie perché evidentemente considerate a yakiv cioè praticamente la parte diciamo aliena ha avuto il sopravvento e quindi io vivo con un aliena non so chi sia ragazzi mettetevi nei miei panni a questo punto care amiche e care amici non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore augurandovi un buon proseguimento di domenica pomeriggio e dandovi appuntamento sempre a voi piacendo al mio prossimo video che conto di fare a breve perché perché ho ho già letto anche il nuovo numero di Nathan Never e me ne voglio parlare alla prossima ragazzi